Castelfidardo-Fano, che derby ragazzi! È un derby fresco, giovane, non ha tantissimi precedenti, ma ha già tanto da raccontare, a partire dagli stadi delle due contendenti, intitolati a due mancini, Galileo, quello di Castelfidardo, Raffaele, quello di Fano. Il Castelfidardo arriva alla sfida odierna dopo l'inopinata sconfitta di sette giorni fa contro l'ultima della classe Giulianova, per giunta dopo essere andati in vantaggio. Se è peccato di presunzione? Forse, sicuramente c'è stata poca concentrazione. Comunque, sarà oggi la giornata giusta per rialzarsi? Il Fano, parafarasando Proust, è ancora alla ricerca del Fano perduto. Sì, quel Fano forte, brillante e bello di fine stagione scorsa e di inizio di questa. Qualche segnale c'è stato domenica scorsa in casa contro il Campobasso, ma ancora siamo lontani dal meglio e la ricerca di sé ricomincia proprio qui da Castelfidardo. Assente Belelli per infortunio e Castellana per squalifica tra i biancoverdi. Rientra Capitano Dari dopo quattro turni di squalifica tra le fila Granata. Borrelli a mezzo servizio va in panca. Torta ancora out. Presenti in ottimo numero le tifoserie, pubblico numeroso al Galileo Mancini di Castelfidardo. Il sole riscalda e illumina il terreno di gioco. Vediamo allora insieme come andata tra Castelfidardo e Fano. Passano poco più di 60 secondi che il Fano è già in vantaggio. Bartolini sfonda sulla sinistra. A Sivilla non riesce il tappin vincente, ma per sua fortuna la prende Chiacchiarelli che rimette in mezzo per Gucci che da ottima posizione fa secco Chiodini per il vantaggio Granata. Quindi un minuto di partita, Castelfidardo 0, Fano 1. Niccolò, Gucci. Dopo il vantaggio continuano a macinare gioco gli ospiti. Al quarto punizione di Chiacchiarelli alta sopra la traversa. Poi all'ottavo Granata vicini al raddoppio. Sivilla dalla destra opera un traversone sul secondo palo dove con una estirata mancina arriva Gucci che però alza alle stelle. E il Castelfidardo fa una fatica tremenda a riorganizzarsi e a mettere la testa fuori dal guscio e ancora di più ad affacciarsi dalle parti di Ginestra. Ci prova al venticinquesimo Minella che approfitta di uno scivolone di Lunardini per involarsi di potenza verso la porta avversaria. Conclusione ribattuta. Devono passare poi dieci minuti per rivedere i biancoverdi rendersi pericolosi per Ginestra. Bel colpo di tacco di ferri per Trillini che riesce a calciare. Il portierone ospite blocca. Buono l'approccio alla gara del Fano. I Granata occupano bene tutte le zone del campo, giocano in scioltezza e con sicurezza. Sanno sempre cosa fare e dove trovarsi e arrivano sempre prima sul pallone. E infatti, anche per una ingenuità dei padroni di casa, i fanesi al quarantesimo fanno il bis. Sivilla approfitta di un qui pro quo difensivo biancoverde tra Foglia e dalla Riva. Fa due passi rapidi, scaglia un sasso di destro che fa seco Chiodini sul primo pallo, gonfiando la rete del 2-0 Granata. Castelfidardo 0, Fano 2. Andrea Sivilla. Un minuto dopo il raddoppio Granata, però, il Castello ha la chance per accorciare le distanze e riaprire il match. Da calcio d'angolo di Federico in zucca sul secondo palo, dove a Foglia non riesce di spingere in fondo al sacco il cuoio. E così si va a riposo con questo parziale. Castelfidardo 0, Fano 2. Al rientro in campo ci si aspetta un altro tipo di Castelfidardo, una squadra che sappia almeno colmare col cuore la differenza tecnica coi Granata. A tal proposito Bolzan mette subito dentro balloni e bacchiocchi per Foglia e di Federico. Diamo inizio allora al racconto della scopiettante ripresa di gara. Inizia il Fano che dopo un minuto si fa vedere con Chiacchiarelli che sfugge a Capparuccia e tira. Chiodini c'è. Nono minuto, altra bella occasione per i fisarmonicisti per riaprire il match. Pigini vince un contrasto con la palla che arriva in area granata a balloni che a tu per tu con Ginestra cerca lo scavalco, ma l'esperto numero uno ospite chiude specchio, porta e risultato. Diciassettesimo, altra linea di discrimine del match alla sliding doors per capirci. Calcio di punizione dalla destra di Trillini, traversone a centroarea dove Capparuccia in zucca di testa, il cuoia in coccia sul braccio di Gucci a Canfora di Castellammare di Stabia. È lì in buona posizione ed è per l'involontarietà e fa così proseguire. Grandi le proteste fisarmoniciste, ma rimane così. E così, da qui va tutto a rotoli o quasi per i castellani. Diciottesimo, rosso diretto per balloni, reo di un calcetto a Bartolini fuori campo. Quanto meno fiscale per non dire esagerato. E comunque Castelfidardo in dieci uomini e sotto di due reti. Entra Donzelli per Pigini tra i biancoverdi. Intanto, ma a Canfora, due minuti dopo, caccia dal campo per proteste Dario Ruben Bolzan, allenatore di Fidardensi. Passa nemmeno un minuto e, a gioco fermo, Gucci va giù in area granata. L'assistente di Canfora vede tutto e butta fuori anche Capparuccia. Quindi, udite bene, in sei minuti il Castelfidardo, già sotto di due gol, resta in nove e senza allenatori in panchina. Il match finisce virtualmente qui, anche se il Castelfidardo, pur in doppia inferiorità numerica, non demerita. Gioca bene e fa vedere tutto il suo cuore. Nel frattempo, Gucci, servito in area, carica il destro, ma perde l'attimo buono per concludere. Poco dopo, Speranza cade a terra nell'area ospite granata. A Canfora fa proseguire. Poi negli ultimi minuti, il Castello va vicino al gol della bandiera. Quarantaduesimo, Minella spacca tutto sulla destra. Ginestra respinge sui piedi di Donzelli, che calcia a colpo sicuro, ma Superman, Ginestra, dice ancora di no. Che portierone. Alessandrini, intanto, fa riassaggiare il terreno di gioco a Borrelli al quarantatreesimo. Quindi, Minella, al quarantaquattresimo, in contropiede, spara fuori. Lo imita, Sivilla, dall'altra parte, al quarantacinquesimo e al quarantasiesimo. Ancora Minella ci mette tutta la forza che ha, ma Ginestra oggi è una cassaforte inscardinabile. E infatti finisce così. Castelfidardo 0, Fano 2. Una partita che è stato un bel derby. È quasi un romanzo. Bella squadra il Fano, non c'è che dire. Solida, sicura, con individualità importanti e con un portiere saracinesca. Cosa volere di più? L'unico, appunto, forse, è che non è che si sia fatta vedere così tante volte in maniera pericolosa dalle parti di Chiodini. Però ha anche rischiato zero e ha tenuto in mano le redini del match. Se continua a giocare così e se arriva qualche regalino di Natale da parte del presidente, i Granata possono volare. Il Castelfidardo, visto oggi, invece, non va. E c'è da capire cosa non va. D'accordo che il Fano è quasi di un'altra categoria, però qualcosa di più e di meglio va certamente fatto. E anche qui, dato che martedì apre il mercato, se arrivasse qualcuno, non guasterebbe di certo.